Siracusa è il tuo futuro che impresa, un progetto per l'educazione imprenditoriale nelle scuole superiori. I giovani imprenditori di Confindustria Siracusa in collaborazione con Junior Achievement Italia hanno realizzato il programma Il tuo futuro che impresa per promuovere la cultura di impresa nelle scuole superiori di Siracusa. Le scuole partecipanti sono state il liceo Corbino e l'istituto Fermi con le terze classi per un totale di 60 studenti organizzati in sette gruppi di lavoro coordinati dai docenti Maria Ventura, Antonella Sorice e Vittorio Ravalli. I giovani imprenditori Lelia Crispino, Silvia Sessa, Gian Giacomo Farina, Edoardo Laferla, Flavia Coppola, Lucia De Santes, Ludovico Scollo, Peter e Sean Neri con l'aiuto dei docenti hanno svolto una relazione frontale con gli studenti. In un ciclo di incontri di 30 ore in aula sono stati creati team per trasformare una buona idea in un'impresa. Il percorso formativo ha incoraggiato la collaborazione tra gli studenti e ha facilitato il lavoro di squadra con esercizi per analizzare i problemi e trasformarli in opportunità, fornire soluzioni, identificare i potenziali clienti e presentare in modo efficace il proprio progetto al pubblico. Sono state organizzate anche visite aziendali per far conoscere da vicino le storie imprenditoriali come avvenuto al Vertical Climbing Center di Silvia Sessa. La fase finale vedrà la presentazione dei progetti degli studenti che verranno valutati da una commissione di esperti formata da Diego Bigona, presidente di Confindustria Siracusa, Ermelinda Gerardi, presidente della sezione terziario innovativo di Confindustria Siracusa e Dario Faraone, coordinatore regionale Junior Achievement Italia. La cerimonia conclusiva con la prima azione dei vincitori si svolgerà martedì 16 maggio alle 9.30 presso il campus di The Academy of English, piazzale San Marziano a Siracusa.